buongiorno a tutti siamo in quel di Bertinoro arrivano già i matti perché oggi hanno organizzato una gemma un po clandestina vediamo se riusciamo a farci arrestare dalla polizia di Bertinoro ecco i peggiori supereroi della Romagna io sono Pikachu dei poveri come Pikachu e superman e superman deperito superman gay man depravato superman depravato vai vai Ok, chef! vediamo Scrap che muore superman va oh dio E' un po' Ah, che boffo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, anche oggi. Ciao ragazzi. Ragazzi, buon Natale. Buon Natale. Buon anno. Buon anno. Buon anno.